Sono Maurizio Marassi, ho 21 anni. Mi chiamo Riccardo Etollis, ho 18 anni e faccio parte della nazionale italiana wakeboard. Frequento l'idroscalo diciamo da tutta la vita. Questo sport è uno sport che nasce dall'unione dello scinautico con lo snowboard. Nel wakeboard si è attaccati a un traino, ma nonostante questo non è uno sport solo di forza. La tecnica gioca un ruolo fondamentale, per questo motivo io posso consigliare questo sport a tutti. A febbraio ho avuto la fortuna di poter partire con tutta la squadra italiana per i mondiali in Argentina ed è stata davvero un'esperienza pazzesca. I mondiali sono una gara molto particolare in quanto il livello era veramente alto e ognuno di noi ha dovuto dimostrare il proprio meglio. Io personalmente sono arrivato in finale ed è stata una grande soddisfazione. Scorsa estate ho avuto modo di partecipare all'europeo che si è tenuto qui all'idroscalo. La gara è stata difficile altrettanto quanto i mondiali perché avevo molte aspettative. E dal momento che sono entrato in acqua ho sentito il tifo dei miei amici, dei miei genitori e questo mi ha permesso di dare una marcia in più. Sono riuscito a fare la mia gara al meglio e quindi posso dichiararmi molto soddisfatto. L'europeo qui a Milano è stato uno dei migliori europei a cui abbia mai partecipato. L'impianto che abbiamo qui all'idroscalo non ha niente da invidiare alle altre strutture europee. Come si può pensare appunto il wakeboard è uno sport legato all'acqua, al sole, al caldo. E gran parte del divertimento infatti lo si ha durante il periodo estivo. Io mi alleno per esempio 365 giorni l'anno. Grazie a questo impianto siamo riusciti a dar prova che anche durante l'inverno si riesca comunque a praticarlo anche bene. Se dovessi descrivere l'idroscalo in tre parole direi dinamico, all'aria aperta e per tutti. Rigenerante, emozionante e adrenalinico.